Questo servirà al presidio anche di poter attivare nuove procedure, perché questa macchina consente anche l'esecuzione della TC coronarica, per cui in collaborazione con la cardiologia stiamo organizzando sia la formazione per il personale e sia la possibilità di poter essere d'aiuto all'unità coronarica per i controlli di TC che non debbano sottoporsi alla coronarografia. Sono comunque pazienti selezionati che verranno selezionati dal cardiologo e noi in collaborazione con loro sottoporremo a posto di una coronarografia dei controlli TC coronari. Cosa rappresenta questo momento, dottore? Apriamo i riflettori sull'ospedale. Un inizio, mi auguro, di una nuova iter di peso che bisogna dare a questo ospedale. Secondo me è una goccia nell'acqua, però risolve dei problemi che ponevano delle difficoltà enormi per l'utenza. Credo che il problema questo debba essere soprattutto visto anche in funzione di successive scelte di presenze qualificate nell'ambito chirurgico e medico, anche a costo di fare dei contratti privatistici, perché abbiamo bisogno di eccellenze nell'ospedale, non solo di risolvere l'emergenza urgenza, ma anche di eccellenze. Per cui non dobbiamo assistere più a migrazioni, ma dobbiamo cercare di risolvere, nel modo che ho accennato, di creare anche delle condizioni per la formazione anche del personale medico, di grossi nomi che possano venire in contratti privatistici. Al momento diamo delle risposte? Al momento ci sono delle zone d'ombra che vanno assolutamente risolte. Se si vuol portare questo ospedale ha un'eccellenza che anni fa era sotto gli occhi di tutti. Grazie a tutti.